Francesco, noi siamo pronte. Chiara de Fabarone, avete da tornare a casa, alla potestate dello padre tuo. Vuoi stare a servizio da ste monache? Perché? Voglio vivere un po' per tate. Madonna Chiara, guaritami sta creatura. Ave segnato la fronte, lo fio si risanò, facendo miracolo. Noi sortiamo tutte quando serve, per portare tovaglie nelle chiese, per consolare le anime, i corpi degli infermi. Noi la clausura non la volevamo fa'. Ma voi non siete frati, siete femmine. Avete pagura? Siamo perigliose? La femmina fa tentazione nello peccato con lo periglio dello corpo e delle carni sue. Stateve qua, stateve longe dalle femmine. ci chiedono le porte dello monasterio se proviamo a partire. No! Cari! Mi vuole amarezza a forza. Signor Dio! Mi fate male! Lassate la sorella mia! Ma non la lasso, resta qui! No! 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 Come lo fissesti? Dicono che sei santa, che facci il miracolo. Oh, per l'amor di te. Da Roma si parla tanto di voi. Non volevo che mi chiamano santa. Non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesca. Poi forse un giorno ci rincontreremo. Poi forse un giorno ci rincontreremo. Poi forse un giorno ci rincontreremo.